il fine della corsa della valvola si esatto questo è il stopper ok chiudo questo ora è lock chiudo questo poi la chiave ok chiudo questo mentre questo fa la finiposta questa praticamente quando lei gira ok ok va bene quel coso a 45 gradi 45 gradi ok si dopo accendo questo anche questo e qua ho fatto la diamantatura ok ecco allora prima va tolto questo il diamante io il diamante dopo mettiamo questo qua regoliamo questo regoliamo mettiamo questo qua mettiamo in battuta si si apriamo un attimo per fare tutti uguali partiamo questo questo si può regolarlo mettiamo appena 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 non molto forte quindi non molto forte quindi no e via qui 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 qui